Buongiorno, buongiorno e bentornati qua nella nostra galassia vi ricordo di lasciare il like di iscrivervi al canale se non lo siete già e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nostri video e oggi parliamo di Hunt Showdown visto che è stata aggiornata la roadmap, roadmap bella consistente questa volta finalmente l'update quindi che si andrà a vedere l'update 1.0 quindi quello successivo a quello che c'è stato qualche giorno fa e il post invece 1.0 in cui andranno ad inserire parecchie novità premetto subito che se questi due update vanno online e quindi riescono a portare tutto quello che hanno inserito in questa roadmap in gioco Hunt Showdown passa da uno stato embrionale ad un gioco praticamente completo e veramente 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 figo ma bando alle ciance non mi sono scritto nulla come potete vedere questo è lo schermo del mio computer in diretta andiamo a vedere io un po me la sono già spulciata quello che andranno ad inserire nella date che dovrà arrivare spero il prima possibile e in quello invece futuro il primo update andiamo a vedere quello che metteranno metteranno finalmente l'estensione del prestigio da 50 a 100 e in più metteranno finalmente i reward per il prestigio sapere che cos'è o che cosa non è questi reward boh lo scopriremo solo vivendo e via così il fov slider invece ovviamente anche questa è un'aggiunta che bisognerebbe andare a controllare sicuramente sarà probabilmente la modifica del fov che è una cosa che di solito negli fps e anche nei terza persona c'è quasi sempre ed è una cosa che in effetti manca come opzione andiamo a vedere le altre aggiunte vabbè queste come al solito sono i miglioramenti della leather board quindi una nuova leather board un nuovo implementazione dello spectator mode e un ui improvement niente di particolare l'arsenale invece chiaramente come al solito nuove armi nuovi oggetti nuovi tratti e queste sono le due prime aggiunte diciamo particolari cioè i legendary hunter e i leggendari le leggendari weapon che sinceramente ancora non ho ben capito come potrebbero funzionare ma potrebbe essere veramente una figata cioè avere delle armi molto particolari non soltanto nella customizzazione ma proprio in arsenale che magari fanno più danni hanno più range proprio perché si possono andare a recuperare tramite che ne so io le classiche quest delle leather board o anche soltanto magari facendo che ne so io qualche kill e si possono andare ad acquistare andremo a vedere poi quando uscirà come funzioneranno per quanto riguarda il cast metteranno i female hunter quindi gli hunter femmina vabbè ok questo una cosa che non me ne può fottere di meno metteranno delle variazioni di grunt finalmente implementeranno e reworkeranno plausibilmente lo spider boss visto che è stato già reworkato il butcher e ovviamente aggiungeranno la i improvement quindi miglioreranno sicuramente la i dei mob e qui hanno messo due volte additional grunt variation vabbè un errore di crytek world map improvement e spawn improvement niente di particolare sono cose che fanno normalmente progressione metteranno book of weapon hanno messo il book of hunter molto carino veramente molto molto carino pensavo di farci qualche video sopra per quanto riguarda la lore di questo gioco gli achievement nuovi achievement e ovviamente il nuovo sistema di sblocco delle armi anche perché attualmente con il nuovo sistema della bloodline di sblocco fa veramente cagare posso dire che è sbilanciatissimo soprattutto perché non si hanno praticamente più i reward decenti di prima e per avere un po di soldi bisogna veramente faticare assurdamente classica implementazione delle performance quindi niente di particolare classica implementazione dell'audio e ovviamente come service metteranno il controller support e la localizzazione un'implementazione della localizzazione questo è l'update diciamo più imminente che dovrebbe uscire tra non molto è un buon update diciamo che dovrebbe creare le basi poi per l'update post 1.0 che invece andiamo a vedere adesso bene iniziamo con la costa me la customizzazione dei propri personaggi finalmente si potranno customizzare i personaggi figata le dual wielding non ve lo dico neanche che cos'è quindi è una community request ovviamente sappiamo tutti che cosa significa questa cosa non la sto qua a spiegare io sto ridendo come un deficiente la customizzazione delle ammo quindi degli proiettili questa cosa è boh figata che cosa vuol dire qualcuno mi spieghi cosa vuol dire della crytek per favore e l'hardcore mod l'hardcore mod probabilmente è una versione ancora più cazzuta della versione base del gioco in cui plausibilmente si verrà shottati soltanto venendo colpiti secondo me sarà una roba del genere non so se può essere una cosa buona o cattiva per il gioco ma vedremo come vorranno implementarla come vedete sono praticamente tutte community request game mod lo shooting range che è forse la cosa più carina secondo me o bella che mettono all'interno del gioco cioè in pratica avere un'ara d'addestramento questo gioco sfortunatamente ha degli alti e bassi enormi quindi si gioca in perterrito per un mese poi normalmente lo si lascia andare perché la crytek ci mette veramente una vita a rilasciare le patch questo shooting range dovrebbe essere in teoria la classica ara d'addestramento in cui si provano le armi quindi se qualcuno magari ha lasciato per due tre settimane il gioco e quindi non ha più la mano per sparare agli avversari può utilizzarlo per riprendere la mano ottima cosa veramente veramente spettacolare soprattutto per quanto riguarda magari le armi nuovi che si vogliono provare e si vuole capire senza dover speccare soldi in gioco come funzionano per quanto riguarda invece il front end c'è il classico ui improvement ma probabilmente ce ne saranno degli altri perché verrà aggiornata la roadmap nel frattempo arsenale stessa identica cosa con armi tool e tratti nuovi di trinca i legendary hunter e i legendary weapon di nuovo ma quello che mi interessa di più di tutti che poi spero spiegheranno il più possibile è il crafting il crafting era già stato annunciato praticamente all'inizio del gioco e a parer mio renderebbe il gioco nel classic mod molto più bello questo perché non si è obbligati a dover andare a fare la taglia o comunque il pvp ma basta anche soltanto magari per craftare determinati pezzi o magari per la customizzazione delle ammo e delle armi per quanto riguarda a dover andare magari a uccidere i mob andare in determinate zone a prendere dei pezzi eccetera eccetera cioè può essere un'evoluzione della classic mod non solo portata al pvp e quindi ad andare a cercare la taglia e di conseguenza andare a cercare uno scontro pvp ma anche il puro semplice entrare e divertirsi con gli zombie a farmare è una cosa molto particolare non a tutti piace il pvp spinto a me se becco qualcuno bene se non becco nessuno bene uguale se c'è anche il crafting io sicuramente mi diverto di più e non sono sicuramente l'unico per quanto riguarda il cas stessa identica cosa le variazioni degli hunter e high improvement per quanto riguarda invece la progression altri books come per esempio weapons e monster e delle challenge nuove per quanto riguarda invece la leather board stessa cosa per l'audio ovviamente vanno ad inserire il book of song che piacerà un sacco invece al mio compagno slade che lui è patito di queste cose e metteranno un nuovo occlusion system che probabilmente sarà qualche cosa derivata dal fatto che nelle nelle parti bon sinceramente non lo so questa cosa non la so passo passo per quanto riguarda l'ultima cosa il service metteranno la custom lobby finalmente la custom lobby che forse è la giunta che tutti stanno cercando si potranno finalmente fare i tornei di questo cazzo di gioco perché si potranno invitare le persone sulla propria macchina e di conseguenza su fare il server magari solo di italiani per magari fare qualche torneo questa cosa l'andremo a vedere magari quando uscirà e se sarà così magari tramite facebook e la pagina di hunt showdown italia di cui sono admin andremo magari a creare qualche bellissimo torneo e vedremo di divertirci tra noi italiani e riportare un po in auge questo gioco ultima cosa il japanese localization di cui ce ne sbattiamo altamente il cazzo noi vogliamo l'italiano la localizzazione in italiano porca di quella puttana comunque questa era la roadmap uscita ve lo dico è una roadmap che verrà aggiornata nel tempo l'hanno detto anche loro quindi per il momento questo è quello che diciamo il generale che verrà messo poi negli update chiaramente ogni volta che uscirà un update e la patch note io vi apporterò il video come al solito per le spiegazioni con questo è tutto spero di esservi stato utile spero vi sia piaciuto questo video noi ci rivediamo in gioco gg a tutti quanti grazie a tutti